Ciao Martin, sono Edoardo, io sono venuto a Bologna nel 1980 quando tu hai girato questo gran film che è Toro Scatenato, sono rimasto talmente colpito da questo tuo film che ho trasmesso questa sensazione a mio figlio che si è messo naturalmente a fare box, ho speso un sacco di soldi per sostenerlo in questa sua volontà, tra la divisa, i soldi per le visite mediche, compagnia male, io penso che tu in qualche maniera ti debba sentire anche in parte responsabile di questa cosa e quindi ti chiedo nel momento in cui tu vai al Teatro Comunale a Bologna di passare in via Marsala 31 al Caffè Rubic a prendere un caffè qua da noi.